mai visto lo switch dal vivo ecco lo switch dal vivo due sisco 48 e 24 porte questi sono connettori per la fibra poi dopo abbiamo la management interface e la console interface poi qua di dietro abbiamo questi sono gli slot dove poi qui ci si mette il modulo per lo stack ed eccolo qua questo è uno switch dal vivo abbastanza come dire come quello di casa solo con più porte